Per difendere una signora anziana mi hanno aggredito e mi hanno sfondato il pavimento orbitale. Non c'è nessuna autorizzazione. Il reggio decreto è stato abolito nel 2010. Ne si possono fare riprese fuori e dentro la stazione purché non si intralcio il treno. Succede di tutto e di più alla stazione Termini. Qual è la preoccupazione delle forze dell'ordine a stazione Termini? Cicalone che fa le riprese. Intanto mi presento la rincarnazione di Vergine Maria. Paga 4 volte di valore di mercato. Aspetta, perché state corso? Aspetta. Non c'è problema con voi. Quando tu c'hai il telecomer e hai nascosto. Ma leva la mano. No, non ve lo annalzi. Ma non soltanto. Non capito perché devi lì qua Cicalone. Io l'ho data una mossa perché qui la situazione è brutta. Uno schifo pazzesco, guarda. E gliel'ho dato dicendo che con questo telefono ti devi riscattare. Cari amici, limottacci vostri! Cari amici in scuola di botte, oggi siamo tornati a Termini perché in questo periodo Termini è una polveriera. Da quando hanno deciso di spostare tutte le persone che sostavano su Piazza dei Cinquecento e premerle nelle vie laterali, perciò via Marsale e via Giolitti, si sta creando un clima un po' particolare. E oggi noi siamo venuti appositamente per parlare con le persone, per capire che clima si sta creando e perché si sta creando questo clima. Ci siamo portati i guardi a spalla, infatti. Abbiamo portato, guardate quanta gente, ma non per cattività, perché volevano venire a vedere, ci siamo organizzati. Detto questo, cari amici, se vi interessa il video, bene, altrimenti vedete quei bei paletti illuminati? Venite qua e ve li schiaffate tutti tra le chiappe, uno per volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 ho portato avanti, non ho mai rotto l'anima a nessuno, i medici mi hanno preso in considerazione, però ho vissuto anche 52 anni a Milano, poi venendo giù ho perso mia madre nel 2019, sono andato a cercare casa, manca parlarne, sono andato 10 a 7 volte dai servizi sociali, le troviamo qua, le troviamo là, le troviamo sotto, ma non hanno mai fatto niente, mi sono buttato sulla strada perché con una pensione di 650 euro al mese uno non ci fa niente, non ci si capa oggi, perciò tu hai 650 euro di pensione, cerchi di tirare avanti non avendo ovviamente un affitto da pagare, spese, luce eccetera, esatto, pago il dentista 350 euro al mese, ah cavolo, tanto, è tanto però mi devo metto a posto questa bocca, per strada tu riesci a mangiare tranquillo? Sì, tranquillamente, mi hanno fregato il telefono e tre sul treno Roma Nettuno, tre telefoni, ti fida una mignota, non è che le forze dell'ordine controllano le videocamere, l'ultimo me l'hanno fregato il 31 di marzo, l'ultimo telefono, poi io c'ho un fratello che non sta molto bene, quindi devo stare in contatto telefonico con Nettuno, anche perché io con mio frate non ci vado d'accordo, solo per questo motivo, però è una bravissima persona. E non hai pensato magari a ritornare a Nettuno, anche magari in una soluzione simile a questa, piuttosto che sta a termini che comunque è un po' pericolosa come zona? Io preferisco stare nella zona pericolosa perché so che a Nettuno non ho concluso niente. Ostelli, residenze abitative, queste cose qui? Sono andato a casa, abitavo a Lavigno, al Caracol, non so se l'hai mai sentito. No, è meglio stare per strada. Sì, esatto. Questa cosa è importante, cioè piuttosto che stare magari in un dormitorio preferisci per strada. Esatto. Perché che c'era di così drammatico? Al Caracol? Te lo spiego, delinquenti, spaggiatore, mignotti, un po' di tutto. Gente ai domiciliari, cioè è una struttura, sono delle case stupende. Però le persone che ci stanno dentro sono più pericolose di quelle che incontri per strada. Che stanno fuori. Comunque, meglio qua. Come sono fatto un sacco di amici. E meno male. Amici che ti aiutano ovviamente. L'unione fa la forza. Io aiuto loro e loro aiutano me. Siete tanti italiani, comunque io fino ad adesso ho parlato con tutti italiani. Prezzemolino è il soprannome. Perché? E chi ne so, quanto lo dite lui? Perché è curioso. Prezzemolino perché? Lui? Si impiccia sempre di tutto, si mischia sempre in ogni situazione e non se stai mai zitto. Non è bene, non ti voglio bene. Voi siete amici per voi? Sì. Io sono di poche parole, non ce la faccio a parlare conci. Lui è siciliano, pure tu hai tanto tempo che stai per strada. Io lo faccio per scelta di vita. quando mi rotto il culo, scusate, una frase mi ne vado giù. Sono un po' più fortunato di loro, ringrazio mio Dio. Hai la possibilità comunque di tornare a casa? La possibilità non ce l'ho. C'ho una casa che mi ha lasciato mio papà. La possibilità non ce l'ho. E il mio è di mio fratello. Però giù non c'è niente. Deve lavorare. Sì, prendo qualcosina di soldi, ma sono pochi. Se non lavori, il lavoro ci sta poco. Ho avuto pure le mie sventure nella vita, come tante altre persone, ragazzi, peschieri, come si dice qua a Roma. Vengo qua a Roma perché da 30 anni che faccio su e giù e mi piace stare qua. Vengo degli amici, che sono pochi. Oggi con oggi trovare degli amici sono molto pochi. Tu adesso pure se stai in mezzo a tante persone ti senti comunque solo oppure adesso la solitudine non ce l'hai più? La solitudine la ritrovo soprattutto la notte perché vedo la vera realtà che sto ripassando a un'età che ormai sta in discesa perché prima, sai, fino a 50 anni, 55, ancora sta con forza. Poi fisicamente ho iniziato ad avere dei problemi. Della vita notturna, quando stai per strada, incontri con persone che, bene o male, vogliono qualcosa da te. O quando dormi o quando non dormi, quindi ti do i due o tre. L'ultimo c'è un riscontro dei 15 giorni fa con un nordafricano. Questa cosa te l'ha fatta lui? Diciamo questa cosa me la sono procurata prendendola a pugni in faccia. Anche perché lui aveva due bottiglie in mano rotte, quindi o era con la sua o era la faccia mia. Io sono marocchino. E da quant'è che stai qua? 17 anni, sì. E da quant'è che vedi questa strada? Tre mesi adesso. Tre mesi? Ho fatto un mese a Napoli, poi due mesi qua. E come ci sei finito questa strada? Perché ho quattro figli a Latina, ho carta di soggiorno, ho tutto, tutto completo. I figli stanno a casa famiglia. E sto cercando lavoro, io ho sempre lavorato. Moratori, ho lavorato in campagna troppo. Zio mio, come stai? Avete indicato voi? Sì, è zio mio questo. Davvero? Sì. E lo sai che se lo trovo a bevegli meno un'altra volta? No, no. Ammazza, questo c'è 40 anni però. Stà pure fero. E io ce l'ho 64, questa è la differenza. Avete fatto il becce, eh? Hanno fatto pace, vai, grandissimi. Oggi è rosso, le posti, no, cariato. E queste cose capitano spesso qui? Qui capiano spesso, diciamo che siamo alla media di due al giorno. Due al giorno. Pomeriggio, notte, mattina, pomeriggio. Che tre volte alla notte, io ti posso raccontare un'altra cosa che mi è successa circa 12 anni fa con due rumeni. Io ho una placca di titanio all'occhio destro. Per difendere una signora anziana mi hanno aggredito e mi hanno sfondato il pavimento orbitale. Sono stato operato, però ho perso un po' la vista, però non ho perso né la voglia di andare avanti, né la voglia di mettermi in gioco, né la voglia di difendere le persone che stanno in difficoltà. Che cosa è successo? Io ho successo, io ho venuto qua la prima settimana, sabato, venire qua, venire qui a camminare qui. Lui ha rubato tutto, documento mio, documento, un africano, tutti e due. Lui insieme a un africano ha rubato tutto, un africano ha rubato tutti i documenti, ha rubato tutti i documenti, da dove venivi prima della stazione? Io dormire, prima Lourdes, casa Lourdes, poi andare a cambiare qui, poi hai cambiato e sei venuto qua, poi adesso dormire, strada, poi lui qui. Quello lì praticamente ti ha rubato documenti, documenti tutti, passport, tutto. E adesso però... Anche un africano, tutti e due. Lui è un africano, però bisogna andare, lì ha visto, alla polizia e fare la denuncia per questo. La denuncia ha fatto, sì. Già fatto? Fato. Noi magari perché siamo italiani, io sono romano, attraverso gente romana, quando ti fermano iniziano a dire ma c'hai precedenti? Sì, io ho avuto precedenti, l'ho scontato, ho pagato quello che devo pagare, ma non penso di essere di meno di una persona che va stasera mattina ai 7 e va in ufficio, anche perché io facevo il cuoco da 40 anni. Ho lavorato, ho continuato sempre, come ti ripeto, Mattia a fare anche le mie stupitaggini, perché quando sarai solo le stupitaggini le fai. Ho tradito la fiducia di alcune persone che mi hanno aiutato, però nello stesso tempo mi aiutavano pretendendo sempre di più da me. Adesso sono stanco, ma sono stanco non fisicamente, psicologicamente, e la stanchezza psicologica ti può portare pure a fare delle stupitaggini. Io ci ho pensato un paio di volte, ci ho pensato un paio di volte perché dico, fin dei conti, non c'ho più genitori, c'ho due figli. Ah, ce l'hai due figli? Io c'ho due figli, uno di 23 e uno di 25. Mi sono separato dalla mia ex 21 anni fa, quindi i bambini erano piccoli e sono cresciuti con la madre. Ma scusa, tu con i tuoi figli ti ci vedi, ti ci senti? Adesso è parecchio, non mi ci sento, non mi ci vedo. Quanto? Eh, saranno tre mesi. Normale, passa per il termine. Io nell'arco dei miei vent'anni di vita di strada, io ho avuto anche dei periodi belli. Ho avuto un appartamento, ho avuto casa, ho avuto, chiamiamole amicizie, oppure conoscenze occasionali nel mio periodo di lavoro. Ho fatto delle stagioni all'estero, sono stato a Chamonix, a Courmayeur, all'isola di Ponza. Poi però? Poi quando ritorni a Roma, esci fuori dal giro, dalla ristorazione romana, sei tagliato fuori. Poi con l'età, soprattutto l'età, adesso come se ho sentito rispondere sei vecchio, perché a 64 anni per loro sei vecchio. Io non ho pensato a morire, io moro e io moro. Quante volte non c'è la donna stagione? Una cifra di volte. E tante volte manco intervengono. Quello è brutto. Oppure se intervengono finisce tutta a Terralucci e bevono. Quello poi sta senza controllo. Sì, sta senza controllo. Ha bevuto già 15 birre da 10 gradi l'una. Ha fatto proprio il pieno. No. Quest'altro va a far pipì addosso a quell'altra. Prende psicofarmaci, in più ha bevuto. Mi ha chiamato la mia tremano Gianni e poi sono tornato. Ecco, è una situazione guardata. Però chi di dovere che dovrebbe fare qualcosa, non lo fa. Perché c'ha tutto l'interesse di tenere le cose in questo modo. Ci sono tante volte che li prendono e li portano via. Il giorno dopo però stanno fuori. Io pensavo io, guarda che scarpe che c'ha. Mi è pochita, date... Claudia Colt. Claudia Colt ha dato queste scarpe. Perché le fa tanto del bene. Ma sai che belle queste scarpe, oh. Senti, che numero porti? 41. Annazia, se no te li levavo. È ridata la trappa, scusa. Faccio vedere la tuta. Ah, non vedi, belle pure le sue. Però scusa, belle pure le sue. Da Lego. Le Adidas versione Lego. Le Torsion, scusa. ZX8000. Tiè. È ridata la trappa. Oh. Hai capito. Guarda io con questo coso rimediato. Io queste scarpe le ho rincollate io, pensa. Sarà staccata la punta. No, io e rincollo invece, mi dispiace. Li portate un po' da mangiare? Sì. Ma li fate proprio voi, Sti Panini? Sì. Perché ho visto... Compriamo tutte cose che possiamo alla Lidl, ci autofinanziamo. Ma non c'è nessuno che va aiuto a livello di soldi? Nessuno. Cioè sono proprio soldi vostri? Sì, sì. Ci autofinanziamo. E riuscire tutti i giorni a fare questo lavoro? No, noi lo facciamo il martedì. No, solo una volta alla settimana. Solo una volta alla settimana? Vabbè, però... Non possiamo permettercelo neanche noi. Ma come è vivo nel cuore? Ma noi lo facciamo col cuore. Perché ci piace contattare e parlare con quelle persone. perché esistono, hanno una dignità e devono essere visti, cioè il cibo è una scusa per avvicinare le persone, ma il nostro lavoro, quello che abbiamo deciso di fare è proprio quello, di stare all'ascolto perché sono lui e me e io sono lui. Cioè non c'è differenza. Tutto qua. Basta solo quello facciamo. Contatto e amore. Siete tre donne? Sì. Ok, spesso, diciamo, la donna ha il famoso sesso debole, può avere paura, no? Abbiamo due amici che di solito vengono con noi, ma oggi e l'altra volta non sono potuti venire, ma sono due maschi, che anche loro fanno parte di questo gruppetto. Posso aggiungere solo una cosa, che avendole conosciute qualche, diciamo, l'altro anno a San Pietro, quando vengono, bene o male che Massimo le seguiamo a distanza, interverremo sempre perché sono... Io l'ho fatta con me domenica, quindi l'ho fatta con me, non mi hanno mai lasciato. E noi ci conosciamo ormai da un po' perché lo facevamo presso un altro gruppo e adesso invece lo stiamo facendo da sole perché ci piace parlare con le persone. Ma è nobile come cosa, perché io dico sempre questo, allora a Roma non si muore di fame nessuno, invece si muore di solitudine, che è la cosa più grave che poi lui ha sollevato tra i vari problemi, lui ha detto la cosa più brutta è proprio la solitudine. Sì, è vero, ma perché siamo persone come noi. Il fatto che voi venite qua, parlate con lui, avete comunque un certo rapporto. Ma abbiamo piacere proprio a vedere che se lo fanno. A me tanto tempo fa mi hanno rubato il telefono e lei dopo un mese mi è venuto a dire, ti ricordi quello che mi ha detto un mese fa? Io ho detto no, ti hanno rubato il telefono e mi ha detto questo è per te ed è una persona che veramente io amo come una sorella. Però è bellissima, sono bellissime persone. Quando vedo persone come loro, come Silvio, come Marisa, che conosco già da un anno, cioè mi vengono... È arrivato, me l'hanno regalato, quando me l'hanno dato io ho pensato di darlo a lui e glielo ho dato dicendo che con questo telefono ti devi riscattare. Perché lui non deve stare in strada come non ci deve stare nessuno in realtà, non ci dovrebbe stare nessuno. E lui ha trovato subito un lavoro. Non è il panino che te portano, quella parola, quel sorriso che magari dietro le mascherine tu vede il sorriso con gli occhi, però ti entra nel cuore e ti rimarrà per sempre. Io ho detto io sono innamorato, sono dolce, io sono cattivo. Ha fatto una dichiarazione per le proprie. Ma perché io li amo... Ma questa è la gioia per noi, perché noi è questo che vogliamo portare. Gioia e un dialogo. La nostra presenza per fare un po' di differenza nelle loro vite. Però voi immaginate che comunque c'è un impegno, uno prende, compra, parte, prepara, va in un posto difficile, pericoloso relativamente, però... L'estate quando è ancora giorno, ma loro sono venuti per esempio a San Pietro quando era d'inverno, che alle 5 e mezza del pomeriggio dovevi stare veramente a andare a giro con tre uomini, due donne che giravano con tre uomini. In realtà giriamo sempre con gli uomini, ma oggi ci hanno dato forfetto. Sapere che tu hai delle persone che ti pensano dal giorno prima e dicono domani che cosa portiamo ai nostri amici. Adesso si è fatta una certa ora, i giacigli ci sono, sono tutti posizionati, sono divisi per etnie nella maggior parte dei casi. Qua c'è un posta, Matt, qui ci sono gli alberghi, sono venuti giù i ragazzi, perciò c'è anche una certa vita. Però questo è proprio l'ultimo stadio della possibilità di dormire sotto termini. Vedi tutte queste persone che dormono a terra perché piano piano li stanno pressando, domani mattina alle 6 tutti in piedi, c'è chi beve, c'è chi non sta bene con la testa. Qua a fine della situazione ragazzi che passano per tutto, poi oggi comunque è un giorno normalissimo, è un mercoledì. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Vedi sono divisi proprio per etnie, qui ci stanno i neri, lì c'erano i polacchi, gli italiani subito dopo. Ebbè penso che in una situazione di questo genere la prima cosa che cerchi è una persona che parla la tua stessa lingua. Vedi poi hanno portato da mangiare a tutti, cioè chi si copre completamente. Questo per esempio, loro ci raccontavano che questo dentista qua paga comunque un affitto molto importante, c'è tutta una struttura importante, però giustamente lui lavora fino ad una certa ora, vedi lui fa 8-20 e fino alle 20 per esempio vorrebbe avere il locale libero. Giustamente dopo un po' loro, ciao bello, hai mangiato la minestra no? La minestra c'hai là eh? Non mangi. Quello non parlo con te. Ciao. Ciao. Beh ma capitano mai situazioni di tumulto, situazioni pericolose? Guarda sì, abbastanza. Ultimamente anche giù proprio all'entrata di via Marsala di là, uno si è presentato un po' alterato, è stato fermato, bloccato dalla polizia, continua a scalciare, pugni, però sì succede, molto meno rispetto a qualche anno fa, anche perché è un po' più controllata la situazione e tutto, però succede. Sono addetto al controllo e posso intervenire nel caso in cui vengano disturbate le persone o comunque venga fatta una pressione nei miei confronti, più di quello purtroppo non. No, qua ci sono altre aree a bigliette, noi se interveniamo purtroppo passiamo un sacco di guardia. Ah ok, quindi questo è un riferimento. Eh sì sì. Processi, torni, sordi, avvocati. Cercare di fermare la rissa in maniera senza colpire, esattamente. Ma tipo un miracolo, come firmare una rissa senza intervenire in pratica. Fermi tutti, esattamente. Devi sperare che gli è in cù di timore. Eh, che gli è in cù di timore, il che poraccio, cioè detta così. Questa cosa che stanno a fare pressing, perché sulla piazza non ci stanno più, hanno messo le transenne e ora tutti quanti stanno a venire. Si sono spostati sui laterali. E sta a diventare più problematica la cosa praticamente. Da quello che ho notato. Però non diciamo la facciata è quella più importante. Vogliono curare la faccia, così quando arrivano i turisti si vedono la gente lì per terra, poi alla fine spingi, spingi. È una cosa di facciata. Vedi Matti, ogni angolo qua è buono per dormire, per tronciaciglio. Non sai che è una cosa brutta? Che molte volte loro litigano perché c'è chi fa i bisogni sul giaciglio di un altro. Le due risse che ho visto io qua negli ultimi giorni sono state proprio legate a quel fatto. Che ne so, lui si alza, va là e gli fa la pipì vicino. Oppure un altro prende e gli butta la spazzatura da quell'altro. E controllano durante il giorno, non solo che non gli rubino la roba, ma anche che non facciano i bisogni là. Comunque oltre al fatto che dormi le strade... Quello che va capito è che devi difendere un angolo di strada che per noi non vale niente. Perché per me quell'angolo di strada non vale niente. Per lui è la casa, è quella la cosa più... Il domeniale di strada. Eh, cioè vedi lui lì c'ha tutto. Buona serata. Va bene. Ma tu stai sempre qui tanto? Sì. Ciao, grazie. Grazie. Molte persone non vogliono parlare perché si è alzata molto l'attenzione qui. Sia dal punto di vista delle persone che vengono la notte, ma anche dal punto di vista delle istituzioni, perché ci hanno paura che magari visti così in video domani vengono e li cacciano. Se ti spingono più giù c'è sta caserma dell'esercito e la scuola di polizia e lì non te ci metti, capito? Diciamolo che se sta a fare un po' tardi, noi approfittiamo per camminare qui proprio per evidenziare una situazione che più si va avanti più diminuisce. Qui prima ci passava un po' di gente. Adesso vedi, quei pochi passano solo dall'altra parte, sull'altro marciapiede. Tanti evitano proprio sta via, dal punto di vista c'hanno proprio timore. Una donna se c'ha paura a passare qua c'ha ragione. Sì, una signora, io ho visto prima una signora di testa col passeggino mentre parlavamo. Ha preso e ha fatto retromarcia. Con il passeggino con il tuo figlio qua. Loro questi vedi, sono i giacigli loro, vedi come se lo preparano. Gli stava a raccontare che tu c'hai il secchietto, devi sempre tenerte tutto pulito, devi metti i cartoni sotto. Certo, vedi, poi lui ti ha tutto ordinato. Poi devi convivere, no? Se lui per esempio adesso sta a dormire, quell'altro mette la musica, come fai? Come io lo spieghi? A questo, poi ognuno cerca di... Poi se uno beve un pochettino, magari un po' più alticcio. È alterato. Posso sapere una cosa, qual è la cosa peggiore di vivere per strada? L'aspetto peggiore? Il fatto di essere schifati, perché le persone si schifano e ci hanno paura. La grande indifferenza che trovi guardando anche negli occhi di persone, che ti guardano come un animale raro, ma no un animale, una bestia rara, che pensano che per nostra scelta ci siamo ritrovati per strada e magari basterebbe che ci dicessero soltanto una parola. Tante volte io con Massimo la mattina, perché ci sono persone che vediamo spesso, tutte le mattine, gli diciamo buongiorno. Non si degnano neanche di risponderci. E avere una risposta e sentirsi come una finestra aperta di fronte a un raggio del sole. E poi è la cosa che stavamo a dire ieri proprio con voi due. Cioè proprio il fatto che quando poi vengono le persone, dice vabbè dammo gli qualche sordo, se lavano la coscienza e se ne vanno. In realtà loro i soldi sì gli servono, ma la cosa che gli serve più è proprio il confronto, il rapporto con le persone, che è quello che li fa sentire. Io infatti lo cerco spesso il dialogo con le persone ed è difficile. Magari mi è capitato fare bei discorsi con ragazzi giovani, perché a me piace, mi piacerebbe insegnare ai ragazzi, parlare ai ragazzi della vita. Lui è soprattutto il professore a proposito. Insegnare cos'è, il senso della vita, il perché ci sono determinate situazioni. Questo è un disegno che fai tu? Sì. A massa, sul cartoncino Bristol, e che usi? Che colori? Pastelli a matita, colori indelebili, ci vuole un sacco di tempo. E perché non ti dedichi magari a farne qualcun altro adesso? Adesso è un po' difficile perché mi serve spazio, silenzio. Questo è l'ultimo che ho fatto, proprio l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Sono le piramidi di Giza. Ma lo fai a mano questo? A mano, completamente. Sembra fatto col computer? No, no, a mano. L'ultimo che intendi, quanto tempo fa? Due anni fa, l'ultimo disegno. Ah, due anni fa hai fatto proprio l'ultimo, belli, a massa. Ma ho visto ragazzi che si stanno rovinando con le loro mani, o perché o le cattive amicizie, o pensano di emulare chissà chi. Iniziano a bere, si sballano. Sapete la sera, tra il venerdì e il sabato, quanto ne vediamo dei comitivi che vengono dalla zona di San Lorenzo, o dalla zona del centro, e poi si dirigono nei vari quartieri periferici? Tantissimi. Li vedi sballati di tutto perché pensano di essere realizzati in quella maniera. Io parlo personalmente, essendoci passato, quello non è il modo per realizzarsi nella vita. Realizzarsi nella vita per creare un futuro, per qualche cosa che le persone dicono, quella è una persona brava, un bravo padre di famiglia. Ci avevate spiegato che qui fino alle sette non si può stare sotto questi atti. Sono l'unico che tiene il secchietto anche dalla monnezza. Ah, ma è tuo quello? Eh. E pensavo fosse dalla posta? No, no, io sempre così. Ho detto, le stesse regole che uso a casa le uso anche per strada. Non cambia niente. Cioè, praticamente, quello è il secchio tuo, ci butti la roba, poi a fine giornata più di un sacco lo vai a svuotare. Questo è il tuo giaciglio, praticamente. Sì, esatto. Ma è un posto che tu ti tieni, nel senso che nessuno ci si potrebbe mettere, in teoria? No. O magari te ci trovi in altro? No, no, qui non ci si mette nessuno. Quanto è che tu non riesci a fare una bella dormita, proprio rilassato? Non me lo ricordo più. Non ti ricordi manco più? No, assolutamente no. Sei praticamente abituato ormai? Sì, oramai, sì. Ti diventa veramente difficile? Molto difficile, guarda, è veramente molto difficile. E se non hai testa non vai avanti. Per lavare i panni o le porto dai bangladini. Ah, che ci sono le lavatrici a gettone. Esatto. O altrimenti qui a binario 95 ti vai a fare la doccia, puoi lavare anche gli abiti. Alla Caritas? Sì, alla Caritas. Ma lì non si può dormire dentro la Caritas? È a posto chiuso, numero chiuso. Quindi non... E come lo decidono loro? Non lo so. Non si sa. Non ci sei mai riuscito? Con quale metro misurano loro le situazioni. Perché qui a binario 95 è difficilissimo entrare. Almeno che non sei un tipo proprio che ha due sputi di vita ancora. Capito? E allora ti mettono là dentro. Adesso si può tornare a dormire qui sotto, giusto? Sì, momentaneamente sì. Momentaneamente sì. Anche se ci sono voci in giro che dicono che tra qualche giorno sembra che vogliono sgomberarci. Rubano i documenti a tutti, poi ci vanno a fare le sim, ci vanno a fare peggio cose. Io ho sento messo lavoro, non c'è. Io ho andato in lì anni, ho sento messo. Non c'è, cara. No, io ce l'ho fatto, ringrazio. Chi l'ha fatto questo? Erbar, ah, quelli famosi d'Erbar. Non ti piace, che cosa? Vedi, gli hanno regalato un'altra mannata agli gnocchi, vedi che dicevamo... Un'altra mannata agli gnocchi, vedi che dicevamo... Vai, polizia, carmeneri, non c'è... Dormo strada, anche non possibile, povracci. Dormo strada, dove dormo? Grazie, grazie. Roma Termini, non possibile, dormo anche, guarda. Ma c'è una stura, mi fa... Due giorni speriato senza scarpe. Assaggia, assaggia. Polizia, carmeneri, cucicolo. Prima sono venuto con mia amica, poi ho conosciuto un ragazzo, siamo stati insieme più di dieci anni, Ho comprato casa, avevamo un'attività, avevamo tante cose. Poi nel 2014, ormai il rapporto si è deteriorato, lui mi ha rubato chiavi mentre dormivo, ha portato un'altra donna dentro la casa, io poi me ne sono andata. Da lì, poi comunque ancora lavoravo. Dopo nel 2015 avevo perso pure il lavoro, è stata molto male, avevo conosciuto un altro ragazzo. Dopodiché, lui l'hanno arrestato, quindi ho lasciato la casa e poi sono finita per strada. Non è stato facile per niente nei primi tempi. Pure un'importante storia di tossicodipendenza alle spalle, che era nel 2014 smesso usare le droghe, però con te va andare al set, prende il metadone, che mi ha rovinato del tutto il metadone, che è peggio di qualsiasi attra la droga. Per uscire dal metadone è stata la cosa più difficile del mondo per me, veramente. Sia fisicamente sia psicologicamente. Anche adesso, dopo tanto tempo, non mi sento bene fisicamente e psicologicamente. Ci vuole molto tempo per riprendersi da una storia del genere. Comunque in questo momento mi sto poggiando a casa dei miei amici, sto cercando di andare avanti, sto cercando di un lavoro, anche se fisicamente non me la sento, però sto cercando di farcela. Uno cerca di farcela da solo, non vuole tornare in quelle condizioni nel paese proprio. Ce l'ho dei miei amici, per fortuna c'è amici che mi aiutano, se no non ce la facciamo. Le sostanze non sono più problemi? No. Faccio monitoraggio sempre, faccio esame del cappello, faccio esame di urine, faccio tutto. Adesso ho finito il mio percorso al set. Capito? Io ho già appicciato a questa gente, e c'è stato tu, lo sai. Grazie. Però qua stai. E daglielo. Che l'altro, un altro io, visto. Ti hai parlato con me. Hai capito perché devi venire qua, c'è il calore? C'è il calore, c'è il calore. C'è il calore, c'è il calore. E qui la situazione è brutta. Anche perché ti rispondono sempre che ci potremmo fare noi. Poi sapete, come sempre vede noi, ok, mani e chi i cortelli. Quello che dicevamo. È uno schifo pazzesco, guarda. Sono le 5 e mezza del pomeriggio. Ecco. E questa è una delle tante chicche che succedono qui a Termini. Io ieri gli dicevo, voi sembrate due padri di famiglia. Cioè, io se li vedo per strada, non penso che dormono per strada, che so di senza tetto o altro. Ma io li scambierei per due padri di famiglia normalissimi. Ed è questo che te fa pensare. Cioè, il fatto che a un certo punto tu te puoi ritrovare per strada e loro con la loro dignità cercano di stare per strada nel migliore dei modi. Perché mi raccontavano, cerchi sempre che sta pulito, cerchi sempre, capito, di avere un contegno. Però ti mettono nelle condizioni, tu pensa che loro devono passare buona parte della loro giornata su quel marciapiedino lì di fronte. E diciamo circa 14 ore. Quattordici ore, con i loro bagagli, su quel marciapiedino lì in mezzo, in mezzo allo smog. Pullman, autobus, macchine, claxon, poi l'hai visto te. Le persone che ci guardano. Le persone che vi guardano. Non vi dicono neanche niente, vi giudicano già in automatico. Oggi ci sono state parecchie persone che mi hanno fermato e mi hanno detto, diceva, ma tu che ci fai qua? Sto qui, sto a guardia del Fortino. Perché loro le postazioni e le cose che hanno, se le devono guarda a vista. Se uno va al bagno, l'altro gliele guarda e viceversa. Anche perché in tre notti hanno rubato cinque telefonini, due pagliere scarpe, sette coperte, un marzupio con i documenti e quattro buste dei viveri. Cioè, c'è gente che vi rubano il cappello da sopra la testa, mi raccontavo. La coperta, l'altra sera hanno rubato la coperta a Massimo mentre dormiva. Ieri sera mi hanno rubato la coperta. Vivere come noi, venite senza niente. Vi dovete procurar la coperta, vi dovete procurar il posto, vi dovete procurar i cartoni, vi dovete procurar tutto quanto. E quella è la vera esperienza. Fallo pure solo un giorno e capirai che cosa vuol dire dormire per strada. All'inizio c'è anche la vergogna di trovarsi per strada. Più la gente che te guarda. Cioè, immagina io e te che dormiamo per strada e inizia a... Ah, ma quelli non erano Mattia e Cicalone che una volta, capito? E mo' stanno per strada. Cioè, tu immagina... Che gli sarà successo? Eh. Cosa sarà accaduto? Che caso... Cosa avranno fatto? Questo noi risaliamo, rientriamo in stazione e andiamo un attimo sull'altra via. Perché così ci abbiamo, diciamo, un'immagine un po' più chiara. Però ho notato che c'è ancora un via via di Diversone, nonostante l'ora, nonostante tutto. Le due vie, via Marsala e via Giolitti, sono collegate fondamentalmente da questo passaggio, che è il passaggio dalla stazione. Mo' noi andiamo dall'altra parte e vediamo... La famosa via Giolitti, che era quella dove ti entravi e fai le mutande al contrario. Corperizoma al contrario. Corperizoma. Come ci dicevano, quando i locali sono chiusi, i problemi aumentano. Perché i locali chiusi, in ogni posto, creano comunque degrado perché la gente fa un po' come gli pare, non si sente osservata. Stanno a riqualificare la stazione Termini pure grazie a noi. Ah, fine. Ehi, com'è sta storia del bagnare l'ingresso per un fammetti senza tetto? Eh, hanno deciso da un giorno all'altro di bagnare tutta la parte davanti di Piazza dei Cinquecento, dove si appoggiavano senza fissa dimora per riposare, per dormire. Levando la possibilità a queste persone di potersi mettere anche sotto un semplice riparo che li possa salvaguardare anche semplicemente dalla pioggia. Levare la possibilità a una persona di appoggiarsi anche soltanto sul cilio della strada per dormire. No, ma poi infatti la domanda è proprio quella. Se tu sei ridotto a dormire per strada, sotto a un qualsiasi posto, qui stai avvistati tutti, ecco qua, vedi? Questo è quello che è successo praticamente adesso. Piazza dei Cinquecento, che se vi ricordate le vecchie riprese, ci dormivano tutte le persone. Da qua fino a laggiù. Qui dormiva uno, qui dormiva l'altro. Giusto che le persone, vedi, dormano così o comunque si debbano mettere in un angolo, sperando di non essere cacciato. Addirittura, vedi, questo signore non si può nemmeno sdraia perché si è messo così in un angolo. Però quello che poi succede è che c'è pure un controllo che evita che le persone stanno lì perché queste sono uscite di sicurezza, tra l'altro. Ciò non le può aiutare così come hanno fatto con le transenne, queste rimangono libere. Ma poi il problema, sapete qual è? È proprio lo smog, cioè una cosa che si sottovaluta. Chi dorme intorno a Termini, da qua fino al sottopasso. Ma voi vi immaginate esatto quante polveri sottili dei respiri? Qual è la situazione anche, porco. Non c'è nessuna autorizzazione. Il reggio decreto è stato abolito nel 2010. Ne si possono fare riprese fuori e dentro la stazione purché non si intralci il treno. Io lo dico per natura legale. No, che c'è l'unione, sostanzialmente una faena. Io lo dico proprio per già controllare. Arrivederci. Il reggio decreto è stato abolito nel 2010, l'ho detto alla polferra. Arrivederci. No, 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 io ve lo dico per correttezza. Ciao, che buon lavoro, cari. Comunque se fossimo stati, li tiene Gabriele Corsi con un amico che saluto. Ma poi hai fatto una gran figura di merda. L'autorizzazione di grandi stazioni, l'autorizzazione di cosa? Ma io se voglio ripio dentro come abbiamo fatto. Calamo, esce fuori la violenza. No, poi mi mandano un cazzare. Scusate, la mia domanda è questa. Succede di tutto e di più alla stazione Termini. Qual è la preoccupazione delle forze dell'ordine alla stazione Termini? Cicalone che fa le riprese. No, sul marciapiede. Le riprese le fa Evellina. Che poi dovevamo stare, se fossimo stati un po' più in landa. Ma quale l'autorizzazione? Ma di che? Qua che è successo il fattaccio, ti ricordi? Questo è il famoso posto del fattaccio. Che lo vogliamo replicare, no? Viste in diretta che le facevi sempre. Una volta ci vuole nominare. Ma c'è il dormitorio. Sì, hanno spostato. Molti hanno fatto il push lì avanti. C'è un manicomio. Ma lì giù in fondo? E poi se vai di là è un altro dormitorio. Ma infatti per i turisti che arrivano qua adesso, loro che fanno? Arrivano qui e trovano tutto pulito. Poi però se si sbagliano e vanno o lì sotto... O di là, o dove siamo stati. O di là, o addirittura fanno quelle vie laterali qua. Quelle vie laterali qua. Se trovano in difficoltà. Vi era mai capitato di incontrare qualcuno che vi conosceva per come eravate prima? A me purtroppo sì. L'ultimo è stato quattro sere fa. Ammazza davvero. Quattro sere fa che... Non lo conosceva prima. Sì, ci conoscevamo da giovani. Ed è l'unica persona rincontrata dopo 30 anni che mi hanno offerto casa e lavoro. Una persona che non vedevo da 30 anni. Cosa che credo non possa fare e che non farebbe mai nessun altro. Il fatto è non avere un posto dove dormire, dove sistemarsi la mattina. Perché se io pure devo andare a fare... o il commesso del banco del pane, ho detto vieni da me c'è subito posto. Ma io la notte dove dormo, dove porti i bagagli, come mi posso lavare, come mi posso presentare la mattina alle 6 e mezza al forno e avere un aspetto dignitoso per chi viene a comprare pane. Tranquilla, vengo... No, ma hanno portato il cibo e niente. Che cos'è? Te lo tengo io, il microfono. Il microfono? Sì, il microfono. Sì, sì. Ah, no, questo prima tesoro. Scusami, te l'ho sbordato. No, figurati. Mi stavo facendo, diciamo così, no? Perché... Un po' lontano, perché sono stufa del virtuale, perché ero anche arrabbiata prima. Qua si tratta di... Intanto mi presento la rincarnazione di Vergine Maria. Facciamo a pezzi, perché se non ho sottovoce i vocaboli... Niente, si tratta qua che stiamo con il comando mondiale a parlare. Cioè, praticamente io ho collegamento con tutte le persone che desidero che da sopra faccio voce, anche se non è subito, ma hanno loro... Anche in cibernetica, pensa con il robot, ma proprio qua al botone. Proprio sono stato un militare eccellente come Vergine Maria. Insomma, questo è vero. Voi potete... Esiste il materiale in giro, non lo so, credo che anche voi, dove io sono stata registrata anche a medesimarmi in tutte le donne importanti che sappiamo dalla storia. Come ti chiami? What's your name? Come ti chiami? Andrano. Where are you from? Polsky. Polsky, polacco. Ah, polacco. Da quanto è che sta qua? È poco. È poco. Qui è poco. Qui è poco, sarà un mese e mezzo. Ma è un ragazzo giovane comunque. How old are you? Trenta. Trenta. E questa è la realtà che vi dicevamo, insieme al massimo delle persone che si trovano qui. Adizio, aprilè. Aprilè. Ma non soltanto aggrave. Ma non soltanto aggrave. Abbiamo aggrave. Abbiamo aggrave. In Italia da quanto ci stai? Da quanto è che stai qua in Italia? Eugenio, chiedegli quanto tempo hai che stai in Italia? Un mese. Un mese. Un mese che stai qua? C'è un po' lo sguardo verso tipo come si gira da una cortellata sul petto. Cioè ci sono persone che sono abbandonate dalle istituzioni. Lui è realmente abbandonato dalle istituzioni perché non sta bene con la testa. Non viene eseguito da nessuno, anche perché per essere preso in carico c'è un iter molto lungo, devi avere la resistenza fittizia, devi essere preso in carico da un assistente sociale. Ti devono portare all'ospedale a fare delle visite. Ed sono dei costi. E' perso il lavoro, perso la moglie. La moglie 10 anni fa è morta nel cimitero. E' fatigato, sempre fatigato. Perso il lavoro e è uscito per strada. Da quanto è che vivi per strada? Un anno e due mesi. Qual è la cosa peggiore di vivere per strada? Qual è la cosa più brutta? Più brutta? Quando cacciare fuori. Questo sta peggiore. Così gli amici qua sta buono. E come rubare? E' questo più brutto. E' rubato tutti i documenti, due telefonini. Il problema è dei furti, due telefonini a dimensura. E come te l'hanno rubato? Mentre tu dormivi? E' quando si dormi. Vedi loro si tengono i zaini vicino alla testa, tutto a vista. Tengo due fratelli e sorella. E lo sanno che sei qua? Che dormi per strada? No, vogliono parlare mai. Perché? Ci ha litigato? Sì, 25 anni. 25 anni non parlano, mazza. Qual è il tuo desiderio? Il mio. Come fare documenti e trovare lavoro. Questo. Che poi in mattina, una cosa che loro dicono sempre, che loro riescano a dormire manco un'ora per notte. Perché qui a una certa ora iniziano proprio i mostri. C'è gente che corre avanti, indietro, questi che sclerano. Vedi? Ma lui adesso sta qui, è tranquillo. Però, per esempio, quel signore che sta lì nell'angolo, io l'ho intervistato, il giorno prima gli stava da una bottiglia da lei, quel signore là. Cosa che non posso dire del resto delle persone che magari ti si avvicinano perché ti chiedono che fai, c'è da mangiare, c'è il vino. Qui da noi trovano acqua, Coca-Cola, al limite qualche birra che mi posso bere. Io do un paio di birra durante la giornata e basta. Però tutto l'entourage che sta succedendo è anche una situazione, credo, decomoda, che vogliono cercare di limitare un po' di spazzatura. Perché qui la notte gli amici guardi, ieri sera è successo, personalmente, un ragazzo si è sentito male, gli era preso un attacco di panico e stavano prendendo le convulsioni con quattro carabinieri. E io ho detto, questi quattro carabinieri sapono che fanno. A uno gli ho dovuto si rilasso e dentro l'orecchia ti andano a prendere il cucchiaio per tirargli fuori la lingua. È arrivata l'ambulanza dopo 40 minuti. 40 minuti dopo è arrivata. Quindi gli ho detto, se io stavo sotto infarto, io c'ero rimasto. Vengo ogni mercoledì sera a fare servizio qua a Termini. E' grandissima. Conosco l'ozio Gianni perché ogni volta mi ci metto a parlare. Tutto è nato casualmente. Sono venuto una volta casualmente qua a Termini e da là proprio mi è scattato qualcosa dentro. E' una mosca bianca. Ogni una volta a settimana vieni qua. Questa è la famosa via più pericolosa. Che c'è di pericolosa questa via? Il famoso McDonald's. Dove? Dove se entri con la pelliccia esci col perizzo mal contrario. Davanti c'è il McDonald's. Appunto posto è uno di McDonald's che una volta che entri dico se entri col cappotto esci fuori col perizzo mal contrario. Perché ti spogliano. Li fanno a Brandelli. Poi c'è il famoso... Saluta Manuel che sta in restito a girare. Salutiamo Manuel. Guarda che sicurezza che c'è al tuo imbare. C'è uno gigantesco davanti praticamente. Di là è la parte commerciale e questa è invece la parte dormitorio. Vediamo un attimino pure qua. La parte è un po' più piccata. Quella sia un po' più pericolosa. Considera che io vedo comunque tanta gente che gira. Vedo i locali aperti. Vedo più pulito del solito. Qua già qualche tempo fa quando siamo venuti era già un casino. Vedi ecco qua iniziano i primi giacigli. Anche qua giustamente vedi c'è chi si è preso un angoletto. C'è chi vorrebbe montare il materasso o tutto però ancora non è riuscito. Un caporaccio. Ma infatti qui la domanda è sempre come ci sei finito, perché stai qua, che cosa stai facendo magari per venirne fuori. Ma come si può dormire per strada coraccio nel 2022? Naci qui in una società come l'Italia in Europa no? C'è incredibile ma da terzo mondo. E qui man mano che andiamo avanti diminuisce la gente normale. E masonerie. Masonerie? Sì. E' colpa di masonerie. Cioè che vuol dire? Sono colunquismo. Se fosse i criminali che gestisci il sistema non vanno a casa di queste persone a rubare diamanti, oro, portano armi per far loro morire, lasciano rifiuti tossici, questi possono zampare la terra. Questi sono contadini. Sono figli di contadini. E' verissimo. Questi sono figli di contadini che sono scappati da villaggi pensando di trovare il paradiso qui. Invece qui c'è un sistema per loro che loro devono restare sempre scomodi. Guarda come esseri umani vivono. Devono vivere così, stiamo dicendo. Uno dei paesi più civili del pianeta. Guarda come esseri umani vivi. Eh no, c'è ragione. Tu vuoi aver saccheggiato un blocco di pozzo di petrolio in Nigeria che vale più di 800 miliardi di euro. Ma tu sei della Nigeria? Hanno pagato 2 miliardi di euro. Hanno stato dichiarato tutto. Ma dove è qua? Sì, è giocato. Io pago 4 volte di valore di mercato. Comunque è un bruttivo a mattino. Non ti volevo dire. Eh, ora è te. Io stavo a partire. Ma ci volevo se hai detto una vera scomoda? Oh, c'era. Ma senti che vuoi? In Ucraina? Perché state corso? Aspetta. Non c'è problema con voi. Quanto tu c'hai telecomera in nascosta? Non c'è problema con voi. No, è il caralà. Questo è quello che ti vedi. Poi dopo c'è qualche cosa in nascosta. Non è perché sei grosso ci fai paura. È verissimo. Non è perché sei grosso. Io ho fatto abc di fotografia. Aspetta, vi è qua. È grosso. La telecamera è quella. C'è qualcosa in nascosto con voi. Lascia stare. Scommettiamo i sordi? Mi spoglio tutto. Scommettiamo i sordi? Non c'èmo niente. È qua. Ma ti pare che stanno? Ma mica siamo a televisione o? Non è televisione. Ma non è televisione. Siamo ragazzi che fanno i documentari. Fagli vedere. Fagli vedere. Vuoi il lavoro con iene? Qua. Su YouTube? Che iene? Ma quale iene? Su YouTube si guarda lì. Perché dipende di quante persone che... Guardano. Lui infatti c'è i sordi. Però non vuol dire. Facciamo cose belle. Mi fanno rapinare praticamente. Vedi? Guardi. Rapinato ciglione. C'è sempre stato. Lui è questo. No, no. È colpa tua. Ormai dai. Questa là è lui. Questo sei io. Guarda. Lui combatte. Hai visto? Sì, sì. Adesso è più grosso però. Non c'è... Ti vedi? Sì. Quanto pesi tu? Guardi il collo. Si capisce. Quanto pesi tu? Anche lui fa un po'. Non hai fatto sport. Anche tu fai anche. Sì, pure lui. In quell'epoca lui non è nato. Tu sei giovane. Tu sei giovane. Non è nato. Non è nato. Non è nato. Non è nato. Non capire che ti vuoi fare un quadrato. Che te frega. Ma fai la gente segreta. Fai la gente segreta. Ma leva la mano. Ma che te frega. Leva. Cosa caro? Adesso credo che il parlemento del mondo bisogna fare 100 milioni di dollari per fare un'attività per fare un'attività. Ma l'arabo non lo sappiamo. Spieghi l'anglese, l'italiano? Adesso mi faccio il tergimento dopo. Il parlemento del parlemento 100 milioni di dollari per fare un'attività per fare un'attività per fare un'attività. Mi senti che ti ripristi i botti. Non lo so. E io ho capito una roba dei soldi. Milioni di dollari. Ma non ce faccio il'attività per fare una roba. Italià non c'è un'attività per fare 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 un'attività per farла. D'où ti sei? Sei heav'è cùng qui est? Hcurva, l'attività per farzani come. Naturinda? Ecco insi, ciwlام per fare. Quindi dà una città? Il film di 2 giorni dopo, news le giorni e competition per fare. Il babola. grazie ho detto che ti voglio bene ma vabbè ti ha detto i morti sicuro no era tranquillo signore state attente qua è pericoloso la sera è spericoso qua perché giustamente stavano nell'angolo proprio quello più rischioso sai meglio dirlo vedi però i turisti sono ingenui sotto certi aspetti perché fanno dei tratti e si fermano in punti dove generalmente non mi fermerei nemmeno io magari pensano stai al centro di Roma alla stazione ti pare che ti succede qualcosa e invece ogni tot e metri c'è un dom il dom sono quelle telecamere che girano a 360 gradi e riprendono tutto anche se poi magari non tutti stanno a guardarle però poi ti portano nei vicoli e nei vicoli ti spogliano che fai qui termini aeroporto senti com'è la situazione qua la sera vengono i trolli e i vuoti e fanno lo scambio con quelli pieni cioè ho pizzicato proprio ah vengono proprio a rubare i bagagli ai turisti controlli di vuoto se infilano sotto lasciano quello vuoto è pieno quello pieno ah capito io ho pizzicato proprio mentre stava la poccia ma come sai tu siccome poi perché è successo pure prima la corsa prima non me ne so accorto l'hanno l'hanno fatto scappare quasi l'hanno avvertito sono andato dalla vigilanza e questi dalla vigilanza arrivato dice noi li potremmo toccare li toccate voi sempre così che dobbiamo fare? certo questa fino a quando lì fuori pure pure ma questa è casa mia tu dentro casa mia e c'entri buon lavoro ottima informazione ciao caro buon lavoro perciò avvisiamo la gente di stare attenti che vi fregano pure i bagagli quello che abbiamo detto noi a quelle signore oh poi sembrava fatto apposta l'ho detto a quelle signore cinque anni fa che cosa fanno? praticamente vengono con trolley vuoto infilano il loro trolley così sembra che la borsa loro poi fanno finta che se lo devono riprende e invece prende il trolley vuoto l'hanno lasciato lì se prendono quello pieno praticamente giustamente l'autista che non dorme in piedi sta attento pure a sti fenomeni però immagina che tu stai a partì magari c'hai un viaggio d'affare importante c'hai la valigia con tutte le tue cose e ti ritrovi la valigia vuota è un bel problema e poi dopo il 90% di questa roba la buttano tu quando poi trovano la valigia se ci stanno due o tre cose da vendere bene se ci sono due o tre cose che si possono mettere bene tutto il resto si butta ci hanno segnalato che tutta la gente che stava qui molta è andata a dormire in quella parte lì ed è diventata la parte più pericolosa lì nel frattempo continuano a distribuire i pasti vedi c'è la fila ci stanno i volontari che distribuiscono comunque pasti caldi perché poi molti non li mangiano sti pasti quella è una delle parti dove dormono e l'altra qual è Jacopo quella lì in fondo perciò la parte più avanzata della metro dove poi esce la gente una bottiglia spaccata da fastidio alle persone che entravano che uscivano una cosa ne è bevuto i venti e poi una certa è normale che succede eh sì ma infatti sapete qual è il problema manca il controllo secondo me degli alcolici cioè c'è una libertà sugli alcolici eh sì la borsa eh certo ma ti dice fai nottata eh sì ma qua mi ricordo che sino pure io quando ero ragazzetto mi sembrava sempre la parte peggio qua sì sì qua questa eh qua perciò quella parte lì e questa parte qui sono quelle che hanno recuperato un po' per dormire praticamente cioè loro hanno cercato possibili angoli qui questa è molto più provvisorio però a differenza della dove tengono più pulito eccetera qua col fatto qui col fatto che aspettano la chiusura di cosi poi qui ci sono le macchinette la situazione è veramente più provvisoria più problematica e invece pure lì dietro vedi c'è tutta una parte che si è accampata vediamo pure quella le parti perciò qui sono pochissimi però devo dire la verità ma no fermate ma c'è mamma e qui qui hanno fatto proprio vedi tipo gruppo qui ce ne stanno una marea e poi scusate in tutto questo vorrei far notare che qui c'è un hotel de lusso tu c'hai hotel de lusso qui a piazza di 500 e purtroppo persone che vedi con grosse difficoltà dormono sotto sotto i dettogli in questo caso della metro perché perché se stanno a grandi stazioni possono cacciarli via invece queste della metro non li possono cacciar via praticamente che è una bella differenza buonasera ciao tutto a posto tutto a posto tanto siamo un po' con il nero salve tutto a posto no non versare tranquilli non te ripiamo tranquilli non succede niente quello di plastica comunque vabbè vedi pure loro stanno in una situazione molto difficile perché questo tra l'altro è un cancello chiuso della metro vabbè andiamo ciao buona serata qui sono tutti i pasti è una situazione veramente difficile perché qua c'è perdite d'acqua è il minimo sì sì però guarda bisogni fatti qua dietro mamma mia eh lo so però cioè allora quello che voglio far capire è molto semplice hanno ripulito lì fai tre metri guarda là quella è una latrina come si hai capito quanti metri hai fatto 20 metri capisci che è come mettere la polvere sotto il tappeto come dicevamo prima no qui tutto a posto tutto pulito tutto controllato lì si sono sparpagliati si adesso è successo questo che hanno fatto dei piccoli gruppi si sono sparpagliati e cercano comunque questo in alcuni casi però questo è stato il primo gruppo che è scappato così vabbè perché non ci conoscevano ma pure gli altri diciamo che secondo me questi qua si sono sentiti un pochettino più più attaccati perché sai è un angolo ben nascosto che noi siamo andati là specifici comunque io a questo punto direi il giro l'abbiamo fatto abbiamo un po' visto tutto quanto abbiamo visto le due vie principali poi ci siamo fatti tutte quelle che ci sono state segnalate come aree dormitori cioè quelle che gli vengono permesse e noi qua da Termini pure oggi vi abbiamo portato un sacco di storie vi abbiamo portato un sacco di luoghi e se volete ci ritorniamo perché ci stiamo tornando spesso anche per vedere come cambiano le cose e già so cambiate tanto però secondo me non so cambiate in meglio perché è vero che hanno restituito un'immagine di pulizia lì ma poi vedi questi qua magari vanno a fare i biglietti lì dove stavano quelli a dormire c'erano le macchinette c'erano i biglietti c'era l'ingresso della metro bagni a cielo aperto e non si è risolto veramente niente detto questo vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao